La rilala, la rilala, la rilala, la rilala, la pomm, pomm, pomm Di nome la chiamava a Pueb e Andà, pomm, pomm Di gioco al nobile, pace alla prontà Ma con lo cuore, mamma del cielo, come fare, mamma del amor. Ma con lo cuore, mamma del cielo, come fare, 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 mam Ragazzina dai, capelli grondi, perché quando gli chiamo non rispondi. Ma con un cuore ma mare meno, come faremo a fare l'amore? A fare l'amore, a fare l'amore, come faremo a fare l'amore? Se i mari ti diranno gli occhi miei, che la speranza e il mio amore tu sei. Ma con un cuore ma mare meno, come faremo a fare l'amore? Ma con un cuore ma mare meno, come faremo a fare l'amore? A fare l'amore, a fare l'amore, come faremo a fare l'amore? Siete stati bravisti, veramente bravi, complimenti. Io ringrazio anche la signora Debora, perché il tempo non è stato moltissimo, abbiamo cominciato selezioni facce. Quindi sono stati veramente bravi, perché si lavora con i bambini e non con delle macchine. Quindi non è semplice organizzare in successione, siete stati veramente bravi. E questo è un progetto che continuerà anche tutto l'anno, perché ora per la festa della Toscana c'è stata una preparazione, c'era un obiettivo e poi continuerà per tutto l'anno. Forse alla fine dell'anno speriamo anche di riascoltarvi, di rivedervi di nuovo e di ascoltarvi. Complimenti di nuovo. Volevo aggiungermi alla vostra preside per dire che siete una scuola meravigliosa e degna erede della tradizione musicale maglianese, perché sapete che voi tutti siete invitati quando finirete le scuole a continuare ad andare a cantare e a suonare. A Magliano c'è la possibilità, tutte quante le possibilità. Dalla banda, e so che qualcuno di voi già va a musica alla banda, ci sono i madrigalisti e so che alcuni di voi già vanno a cantare con i madrigalisti. E c'è il coro delle donne di Magliano, che anche se a Montiano però si chiama coro delle donne di Magliano. Appunto so che una bambina, ecco, di voi viene, anche io canto quel coro, quindi la conosco. Quindi continuate perché siete veramente bravi. Complimenti a voi e alle vostre insegnanti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.